Sono Cristiano Negrini, ho 36 anni, sono candidato in sinistra per la Lombardia a sostegno di Massimo Gatti, presidente. Sinistra per la Lombardia è l'unica alternativa alle destre che hanno mal governato in questi anni e è un'alternativa anche a delle finte opposizioni che non ci sono state. Un esempio lampante del mal governo delle destre è questo ospedale, il vecchio Sant'Anna. A livello di sanità non c'è stato assolutamente un sostegno alla sanità pubblica, anzi. L'ultimo regalo di Maroni sui malati cronici con i gestori è il primo passo verso la privatizzazione totale della sanità. Negli ospedali comaschi non viene applicata la legge 194 ed è un'altra cosa su cui noi insistiamo. Dunque io mi sono candidato perché sinistra per la Lombardia rappresenta tutte quelle battaglie che io ho sempre sostenuto nella mia attività politica.